uno di noi carletto uno di noi uno di noi carletto uno di noi popolo rosso nero amici youtube benvenuti al benzinero stadium non poteva essere che un simbolo del milan a buttare fuori gigio donna ruma e io godo come un suino iscrivetevi al canale campanellina dagli aggiornamenti pollice in superi di benzinero notizia notizia non è già più una notizia perché già voi tutti dovreste sapere che stasera come tutti i giovedì appuntamento ore 21 e 30 in live sul mio canale sempre milan ci saremo io e self sport 86 parleremo di mila parleremo di quanto è stata bella questa settimana con l'eliminazione dalla champions dell'inda e di gigio donna ruma un'eliminazione che ha fatto contento davvero tutti noi ieri ho visto e ho visto il gol che ha preso il primo dell'uno a uno zizzo e io vi ricco raga se oggi vi dicessero quelli del pari in saint germain facciamo uno scambio alla pari donna ruma e magic mike voi lo fareste io col cazzo che lo farei col cazzo perché le cappellate zizzo donna ruma le ha sempre fatte ha fatto anche cose buone ma ne ha fatte di cazzate lo avevo sempre detto invece è un magic mike è una furia ben di sta gigio e la cosa più assurda il vostro presidente è il calif che poi io non riesco a capire perché gli permettono sempre di fare tutto questa testa di cazzo è andata nello spogliatoio ha picchiato contro voleva andare a prendere le arbitri perché per lui era fallo che cazzo di fallo è zizzo ha fatto una stronzata mega galattica perché zizzo non lo posti su instagram la cagata che hai fatto ieri perché tu posti tutte le stronzate poi la cagata non l'hai postata e io ti ho insultato lo stesso perché se andate a vedere sotto il profilo instagram di zizzo ci sono anche io perché non ti posso vedere ti sei comportato troppo male ti abbiamo augurato di prenderlo in quel posto l'hai preso e non raccontatemi e ma zizzo vince il campionato è il campionato delle pugnette quello lì perché è ovvio che vince Paris Saint Germain ha un budget illimitato rispetto alle altre squadre se non vince il campionato sarebbe scandaloso sarebbe davvero una cosa vergognosa però questo qua il presidente lui pensa che lui ha i soldi spende i soldi e può fare quel cazzo che ha voglia va squalificato non deve più per tot mesi entrare negli stadi visto che lui fa lo sbruffone e questo è un fallimento totale un fallimento anche di quell'altro infame Leonardo che ha costruito una cozzaglia di campioni pensando che basta spendere 100 200 500 60 milioni di contratto per vincere le Champions e continua ogni anno a fallire l'appuntamento Champions perché è stato eliminato da uno dei peggiori Real Madrid degli ultimi 20 anni da un grande Carlo Ancelotti che se l'è messo nel taschino quindi solo questo vi dico voi due siete e resterete sempre degli infami nel cuore di noi milanisti resterete sempre come una montagna di letame che fuma l'inverno tanto che a noi ci fate cagare e quest'anno vi è successo l'anno prossimo tu Leonardo non so più se sarai ancora come dirigente del Paris Saint Germain perché sei fallimentare in tutto per me sei un dirigente che fa cagare il cazzo e a te Gigio Donnarumma vi auguro di fare la stessa fine le stesse figure di merda quali siete noi continuiamo a godere godere come dei ricci addomesticati ci vediamo stasera ne parliamo insieme in live sempre forza Milan perché l'unica cosa che conta è il Milan grande Carlo Ancelotti sei e resterai sempre un cuore rosso nero ciao a tutti torna a fare benzina un saluto dal Benzinero Stadium è un saluto dal Benzinero Stadium